Così? No, no. Ah, ok, così. Targario non sicuro. Sepang. Le mani non sicuro. Le mani secondo me è questo qui. 4.800 forse è Mugello. Asse ne è corta. 5.300, 5.500. Questa è lunga. Qual è l'altra lunga? Mugello è lungo, perciò. 5.200. 4.800 non è qui di Paila. 4.400, Filippo Island. Questo è facile. Le mani 4.100. Sepang 5.500. Mugello. Because is Mugello. Mugello, because is Mugello. It's my favorite truck. And Silverson, because is the longest one. So, it's easy.